Chiamo, troviamo e convinciamo individui che sono simili in tutto e per tutto a coloro i quali ce ne facciano richiesta a collaborare con noi. Guardate, questi sono i giorni della nostra organizzazione. Ehi, incredibile, ma vero, questi sono i nostri grandi capolavori. La signora terza, il Papa, ma che questo non ha bisogno di presentazione. Ah, a proposito, il sosia del Presidente era un mediocre attore di odio. Breschner, Ruspert, lo sappiamo tutti. Noi mandammo i sosia di Ruspert e di Cerci a Iatina. E i russi mandarono un falso Stalin senza che noi lo sapessimo. E' questo che deve essere creato tutti quei casini laggiù. Erano tutti dei sosia perfetti. Sì, ma perché tutto questo? Per potersi trovare in due posti diversi nello stesso momento. Un piccolo passo verso l'ubiquità del debate. Ma dove ricercate questo?